Salve gente, allora ci stiamo avvicinando al big match tra Milan e Lazio, ancora poche ore, poi magari faremo un video post partita e ne parleremo. Vi dico già che la formazione che ho visto si è confermata dà l'idea di quello che un po' dicevamo negli scorsi video, ovvero che non c'è la voglia al 100% insomma di giocarsi tutte le carte. Si gioca la partita, venga quel che venga, non si strapperà nessuno i capelli se usciamo, questo perché? Perché si vuole dare più importanza e credo che sia giusto al campionato. Ovviamente me se sta scaricando, pure di pomeriggio me se scarica a cellulare quando faccio i video, incredibile. Ieri intanto a giocare alla Roma parliamo anche un pochettino della Roma, non tanto della partita ma della Roma perché c'è una cosa che onestamente un po' mi stona e visto che c'è chi mi fa delle domande sulla Roma e diciamo rispondo anche in questo modo. Me ne hai fatto domande su Tare, me ne hai fatto domande sui contratti, ragazzi in questo video cercherò di rispondere un po' velocemente a tutto. Prima però tu che stai vedendo questo video, se lo stai guardando e comunque diciamo è uno sforzo che ho fatto a farlo, premiami con un like, lasciami un like, iscriviti poi al canale se ancora non avessi fatto, clicca sulla campanellina in modo di rimanere aggiornato e niente. Ragazzi vi ripeto, se mi lasciate un like io vi ringrazio, è importante per me anche se per voi è un gesto gratuito che non ha nessuna importanza, fatelo a questo punto visto che è gratuito. Nostra Famo 76 il profilo Instagram, se volete andarci a dare un'occhiata se avete Instagram magari guardatelo e anche lì seguitemi. Per quanto riguarda domani sera ragazzi giovedì 10 alle 21.40 aprirò una stanza per fare un salottino con voi e discutere di Lazio e campionato. 21.40 su Clubhouse, se non avete l'applicazione scaricatevela, fatevi un profilo e seguitemi su Paolo Nostra. 21.40 domani aprirò una stanza e sarei tutti invitati per parlare con me, proprio parlare fra di noi. Quindi no chattare, proprio parlare in una discussione da salotto. Allora partiamo un po' con... intanto parto da ieri sera. Vabbè l'Inter si è dimostrata più forte ma perché ha un organico sicuramente importante, ha giocatori importanti, è una squadra molto più strutturata della Roma e quindi diciamo un risultato che ci si poteva aspettare, magari non un gol dopo due minuti, però diciamo che la vittoria dell'Inter poteva essere anche messa in preventivo. In quel modo un po' brucia perché comunque subito così a freddo, ma soprattutto una partita dove tu devi recuperare i cambi, cioè tu non cambi niente, per te va tutto bene, non solo hai beccato pure il secondo gol, è al 75-76. Io ecco, so queste cose che onestamente voi sapete che io ho visto l'arrivo di Mourinho forse ancora più in modo positivo rispetto a un romanista. Cioè mi è sembrato veramente un grande arrivo, un grande ritorno, poteva esserci un grande effetto sulla squadra, sull'ambiente. Invece vedo macerie intorno a Mourinho perché comunque ancora non riesco a vedere un gioco chiaro nella Roma, vedo molto nervosissimo, ve l'ho già detto, poi voi dite ce l'hanno con Zagnolo. Un pochettino devo dire, ieri sera per esempio l'ammunizione non c'era, però Zagnolo un po' se ritira le attenzioni sulle ammunizioni perché comunque reagisce sempre un po' in modo leggermente troppo superiore all'accettabile. Anche proprio nei contrasti, nelle cose, deve essere più... però lo vedo troppo irruento, lo vedo come se fosse nervoso, poi saranno le voci del mercato, quello che dice Pinto, quello che dice non lo so chi, però questo ragazzo secondo me va un attimino tranquillizzato perché altrimenti rischia, rischia, è soggetto a beccarsi tutte queste ammunizioni. C'è un complotto contro la Roma? Assolutamente no ragazzi, la Roma sicuramente ha subito dei torti, come più o meno li subiscono tutti, mi fa ridere il fatto che prendono un Calvarese come consulente arbitrale per studiare proprio questi casi dove loro si sentono vittime, per portare avanti il discorso appunto di Murigno che la Roma subisce perché è una piccola squadra, mi fa ridere il fatto che Calvarese è la prima... la prima, diciamo, immagine che gli sottopongono, ovvero del gol annullato a Zagnolo nella scorsa giornata, dice subito no, il gol andava annullato perché il fallo c'è. Ecco, di fronte a questo forse ci sono stati dei disguidi quando hanno preso Calvarese, nel senso che Calvarese si dovevano dire guarda ti fanno il contratto e mi raccomando quando ti diciamo che abbiamo subito un torto, tu certifica che abbiamo subito un torto, per esempio devi solo mettere la firma sul fatto che sì, abbiamo subito un torto, invece Calvarese che ha fatto il suo ex lavoro, ovvero fatto l'arbitro, secondo me era da annullare. Ma questo perché? Perché oggettivamente, seguendo il regolamento, era da annullare ragazzi. Poi se volete vedere il complotto, che ci sia più attenzione su determinate squadre, sì, questa è una cosa che dicevamo noi quando alla Lazio ci prendevate in giro con i romanisti, su determinate squadre, soprattutto ecco Roma, Lazio, insomma le squadre non del nord, c'è un po' più di attenzione, nel senso se te posso annullare una cosa te l'annullo, quello è vero, ma non è che non c'era, era da annullare, secondo il regolamento. Quindi diciamo non c'è un accanimento, c'è una maggiore attenzione che delle volte invece non si vede nelle situazioni del nord, ma questo vale per tutte le squadre che non siano Mila, Inter e Juve, per tutto il resto vale per tutte, non vale solo per la Roma. E appunto mi fa ridere questa cosa, e purtroppo ci si aggrappa troppo Murigno, diventa quasi un alibi, mentre secondo me io vedo ancora tanta, tanta strada da fare e non solo oggi arrivano notizie che ci sono diversi giocatori che cominciano quasi a stufarsi di questa situazione all'interno della Roma. Comunque, questo lo vedremo poi nella prossima stagione, intanto devo dire che Murigno, più che guardare cosa fanno gli arbitri, dovrebbe guardare cosa fa la squadra in campo, perché intervenire al 76, secondo me, è un grave errore, è lo stesso che dicevo a Sarri quando non interviene sulla Lazio. Cioè, allenatori strapagati che invece non portano nessun cambiamento in corso della partita, e questo non va bene. Rispondo per quanto riguarda... Ancora mi chiedete le parole di Tare, ragazzi, ma Tare, sentito che ha detto, già ve l'ho detto in un altro video, lo ridico in questo, non lo dico più, però non voglio darvi una risposta, vi voglio dare un'immagine, forse è più chiaro, che probabilmente con le parole non riesco a spiegarvi. Immaginate uno che dentro casa magna, butta, fa mondezza su mondezza, mette mondezza qua, mondezza là, e c'è a casa invasa la mondezza, che quasi non si può più muovere, anzi, proprio non si può muovere la mondezza che c'ha. Un giorno si sveglia e, piano piano, piano piano, a fatica, raccoglie tutta la mondezza che ha fatto dentro un bel bustone e la va a buttare. Ecco, quando torna a casa si sente soddisfatto, ah, vedi, ho fatto pulizia di tutta la mondezza che avevo fatto, l'ho buttata. Ecco, Tare è questo, quello che si sente soddisfatto di aver accorto la mondezza che lui stesso ha creato per averla buttato fuori. Però c'è un piccolo particolare, che se noi facciamo la mondezza, la raccogliamo e la buttiamo fuori, siamo sicuri che a casa non ci ritorna. Invece il caro Tare, di tutta questa mondezza che ci aveva intorno, ha fatto il sacco, l'ha buttata fuori, ma è capace che, invece, fra quattro mesi, si risveglia una bella mattina e tutta sta mondezza ce l'ha un'altra orta sparsa per casa, quindi non ha risorto un cazzo. Ecco, questa è l'immagine di chi è soddisfatto semplicemente di aver buttato la mondezza che ha generato, con il rischio che gli ritorna dentro casa. Quindi, di che cosa vogliamo parlare? Di uno che veramente è solo il male. Oggi, come oggi, Tare è il cancro della Lazio. Se non viene estirpato, ci uccide. Questo è quanto riguarda Tare e non ne voglio più parlare. Contratti, ragazzi, finalmente abbiamo ricevuto una risposta. Dopo le 3.000 volte gli mi hanno mandato un messaggio, perché voi mi chiedevate di Filipe Anderson e Patrick, così, ci ha mandato una risposta. Però, onestamente, io non ho fatto un video, perché la risposta è quella che già sapevate, ovvero ha riconfermato che la situazione è in stallo. 1.800.000 più bonus la Lazio, 2.2 più bonus gli agenti di Luis Felipe. La situazione è in stallo, ci sono questi 400.000. Io non lo so come si sbloccherà la situazione, se si sbloccherà. Per quanto riguarda, invece, Patrick e Stracoscia, altre due informazioni che ci vengono date, Patrick c'è un interessamento nel provare a rinnovare. Il problema è che Patrick ha detto che vuole tornare in Spagna, quindi non è un problema tanto di contratto, di soldi, quanto che il popolo non vuole rimanere più qua, vuole tornare in Spagna, che la famiglia spinge per tornare a Spagna. Questo, quindi, non so se effettivamente riusciranno a convincerlo a restare. Nonostante Sarri ha cominciato a avere anche parole, insomma, di buone e positive verso di lui. Stracoscia, pure lì, si sta provando a... tutto all'ultimo, ovviamente. Si sta provando a rinnovare il contratto, anche per non perdere lui a zero, ma Stracoscia già sa che se rinnoverà non sarà titolare. Infatti, Sarri ha dato anche il benestare per il rinnovo, ma non è lui il primo portiere, lui vuole un altro portiere come primo portiere. E quindi, in queste condizioni, Stracoscia non vuole restare. Ovvero, se resta, se resta come prima scelta. A fare la riserva non ci pensa, poi riesce ad andare in un'altra squadra e provare a giocarsela come titolare. Queste sono le situazioni che mi hanno detto. Altro non so, ragazzi, quindi voi provate a chiedermi, io giro sempre le domande che mi fate, ma sapete che le risposte, se arrivano, arrivano comunque con un po' dei giorni o dei settimane. La partita, invece, questa sera, ragazzi, ve lo stavo dicendo, abbiamo una formazione che vedi, Isai a posto di Lazzari, sembrerebbe Basic a posto di Luis Alberto, in avanti non si è capito se gioca a Zaccagni o no, o se gioca a Petro o meno. Quindi, diciamo, una formazione che, rispetto alla bella prestazione di Firenze, viene nuovamente riportata a quella che era la formazione della giornata prima. È una formazione che può vincere contro il Milan, dipende da Milan chi schiera, come giocherà il Milan, come scenderà il Milan, con quale attenzione, con quale ambizione. Io non lo so. Sicuramente le scelte di Sarri sono anche orientate al fatto che noi abbiamo una partita molto ravvicinata, perché sabato pomeriggio, o alle 6, mi sembra, sabato alle 6, giochiamo col Bologna, quindi abbiamo pochissimi giorni di riposo e per riallenarci. Probabilmente anche per quello vengono fatte certe scelte. Però, ripeto, se andiamo a vedere, anche dalle parole di Sarri, se perdiamo e usciamo da queste competizioni, sia Coppa Italia che Europa League, sicuramente Sarri non si strappa i capelli e sicuramente noi, visto che è un anno di transizione, non dobbiamo strapparci i capelli. L'unica cosa che chiedo è che, se dobbiamo uscire, uscire a testa alta, ovvero, avendo giocato la partita, avendocela messa tutta, e no con un risultato umiliante. Ecco, solo questo chiedo. Poi, se esco o no, in questo anno, in questa circostanza, non è che mi interessa, soprattutto quest'anno. Però, voglio la prestazione, voglio vedere continuità con quello che ho visto a Firenze. Ragazzi, qui concludo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, che impressione avete per questa sera, cosa pensate per quanto riguarda il discorso rinnovi, vabbè, ma tanto già lo so che ci siamo mossi troppo tardi, insomma, se volete qualsiasi cosa per i prossimi video, domande così, mi raccomando, nei commenti. E ricordatevi, Clubhouse soprattutto, giovedì alle 21.40, quindi domani, giovedì 10, vi aspetto per il salottino. Olive Dolci, ci aggiorniamo magari nel post partita.